Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò 7 idee molto molto originali per arredare il vostro bagno. Parliamo di elementi d'arredo fuori dagli schemi, quindi se cercate qualcosa di particolare e di design potete valutare qualcuna di queste soluzioni. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo! La prima idea per il vostro bagno è la placca di comando del WC Less is More dell'azienda Oli. Si tratta di un oggetto di design che si ispira alle origini dei sistemi di scarico, quando le cassette di risciacquo erano azionate dalle catenelle anziché dai tasti. In questo caso, al posto dei pulsanti ai quali siamo abituati, abbiamo due cordini di nylon di lunghezze diverse, che sporgono su rocchetti semicircolari montati su una base metallica. Il cordino più corto aziona nel mezzo scarico, mentre quello più lungo il pieno scarico. Secondo il designer Alessio Pinto, che ha disegnato la placca, le diverse lunghezze servono proprio a guidare l'utente, aiutandolo a capire quale cordino usare in base alle esigenze. È un oggetto dal disegno essenziale e senza fronzoli, che magari potreste valutare per un bagno minimalista o in stile industriale. Secondo me questi sono i due stili ideali per questa placca. La seconda idea è il sistema doccia albero dell'azienda italiana Ceramica Flaminia. Il sistema comprende un piatto doccia e una colonna doccia. Il piatto è composto da mattonelle in ceramica in rilievo. Le mattonelle sono dei veri e propri moduli che si installano e che poggiano su questi contenitori, che integrano anche la piletta della doccia e il sifone di scarico dell'acqua. Il piatto va abbinato a questa colonna doccia, sempre in ceramica, che ricorda il tronco di un albero, mentre alcuni particolari verdi della colonna dovrebbero richiamare il colore e l'aspetto delle foglie. Il disegno e rilievo delle mattonelle, oltre a un effetto decorativo, garantisce anche una funzione antiscivolo. È possibile realizzare dei piatti rettangolari o quadrati di varie misure, con la colonna posizionata del modulo. Non sono previste altre posizioni per la colonna. L'obiettivo dell'azienda era quello di proporre un'alternativa al consueto utilizzo della ceramica, attraverso un progetto ambizioso e visionario. E secondo me ci sono riusciti perché è il sistema doccia più originale del mercato. La terza idea sono gli accessori bagno della collezione Sesamo dell'azienda Antonio Lupi. Anche in questo caso il nome del prodotto racconta l'idea che sta dietro a queste creazioni. La parola Sesamo non si riferisce ai semi del Sesamo, ma al termine Apriti Sesamo, che compare nella storia di Alibaba e 40 ladroni, contenuta nei racconti delle Mille e una Notte. In questa storia, come forse saprete, le parole Apriti Sesamo servivano ad aprire l'imboccatura di una grotta, in cui 40 ladri avevano nascosto un tesoro. Anche gli accessori di Antonio Lupi permettono di nascondere delle cose. Sono accessori composti da una scocca in acciaio inox che va inserita in una nicchia muro creata ad hoc. All'interno di queste scocche potete nascondere lo scopino del WC, il cestino di rifiuti, la carta igienica, il sapone, lo spazzolino e il dentifricio, le medicine e la collezione comprende anche dei ganci filo muro perfetti per appendere asciugamani e accappatoi. La superficie degli accessori si può rivestire con qualsiasi materiale, in modo da integrarsi perfettamente con la parete, così da scomparire. I rivestimenti tradizionali sono le mattonelle, le pitture, le resine e il microcemento. Il sistema Sesamo è un po' come un coltellino svizzero, nasconde numerosi elementi, disponibili quando serve, e si può personalizzare secondo i vostri gusti. La quarta idea è il mobile lavabo MyBag dell'azienda Olimpia Ceramica. Il disegno ricorda una valigia appoggiata su un cavalletto e si ispira al tema del viaggio. Non è un caso perché il designer lo ha immaginato mentre era seduto sul letto in una camera d'albergo. Più che il lavabo, MyBag è un vero e proprio sistema lavabo, pensato soprattutto per i piccoli bagni. Il piano è in solid surface, il contenitore colorato è in MDF, mentre la struttura del cavalletto è in legno di frassino. Una caratteristica del modello è che dopo l'uso si può richiudere, abbattendo il rubinetto, e in questo modo il mobile diventa un funzionale piano di appoggio. L'arredo si può personalizzare nei colori e si può anche comporre con alcuni accessori, come il dispenser di sapone, lo specchietto per il trucco e la borsetta portaoggetti in pelle. Trovare un lavabo più originale di questo è abbastanza difficile. La quinta idea è lo scalda salviette scaletta dell'azienda Tubes. È un vero e proprio scalda salviette elettrico da design molto originale e molto lontano dalle tradizionali forme dei termoarredi verticali ai quali siamo abituati nei bagni contemporanei. La libertà di posizione è massima. Questo radiatore si installa dovunque. L'unica cosa di cui avete bisogno è una presa elettrica. Non c'è bisogno di una vera installazione come succede per i classici radiatori. Potete spostarlo anche da una stanza all'altra in base alle esigenze. Scaletta è disponibile in due versioni, a parete e freestanding. Entrambe le versioni includono una carrucola che serve ad avvolgere il cavo elettrico e la versione freestanding prevede anche un pratico piano di appoggio. Il colore è personalizzabile. Sono disponibili oltre 260 colori della scala RAL. La sesta idea sono i sanitari della collezione Klass dell'azienda A&T. Questi sono i primi ed unici sanitari in stile capitonè presenti sul mercato. WC e bidet vengono lavorati a mano da esperti artigiani che hanno il compito di creare una finitura esterna simile a un'altra puntatura, che ricorda e che somiglia a quella dei famosi divani Chesterfield. La lavorazione richiede molte ore perché le imbottiture vengono prima realizzate a mano e poi decorate nella fase finale, in modo da ottenere dei dettagli dorati o color argento. WC e bidet si possono abbinare ai lavabbi freestanding e alla vasca, sempre dello stesso stile, e sempre realizzati dall'azienda A&T. Senza dubbio questi sono dei modelli di nicchia, che in base ai gusti si possono usare in dei bagni dallo stile classico oppure contemporaneo. La settima e ultima idea è la carta da parati con effetto 3D. Il punto di forza di questi modelli è la prospettiva del disegno, che inganna l'occhio e che dà l'illusione che lo spazio della stanza sia più ampio e più profondo. Per ottenere un bel effetto di impatto vi basta rivestire una sola parete, in modo da creare un punto focale che attirerà l'attenzione di chi entrerà nella stanza. Potreste ad esempio rivestire il muro opposto all'ingresso del bagno, oppure l'interno doccia, o ancora la zona della vasca da bagno. Per le zone diretto a contatto con l'acqua ci sono dei prodotti specifici, come le fibre di vetro. Queste fibre, che somigliano a tessuti, vengono resinate durante la posa, in modo da diventare impermeabili. Sono prodotti talmente resistenti che alcune aziende le propongono anche sui pavimenti. Il materiale è lo stesso, così come la lavorazione durante la posa. I temi usati per queste carte da parati sono diversi. I più usati sono quelli che rappresentano paesaggi, natura, grandi archi, finestre o porte. L'obiettivo finale è sempre lo stesso, dare l'illusione che lo spazio interno di un ambiente sia più vasto e ottenere allo stesso tempo un effetto wow. Queste erano le mie 7 idee molto originali per arredare il vostro bagno. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra idea preferita. Se volete approfondire, nella descrizione trovate i link dei vari arredi, dei vari prodotti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Ci vediamo nella prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi! Grazie! Grazie! Grazie!